Questo local tour, il concetto di fare festa in giro di Salento Siamo partiti 18 a Maglia, 18 febbraio, prego Non ho capito Ah, giustamente, noi ragazze voglio che prego perché hanno visto 4 concetti su 4 5 concetti su 5 Quindi hanno girato tutti i posti dove siamo stati Ti voglio ricontare, i gemelli di Cassia Paglia, bella serata Poi andiamo a tenere a Poco Terri, a Lecce A Dona Mederra, a Lecce Poi a Tequila Cungu, sabato scorso a Copacabana, Superstano E stasera a Basile Maniforte, Ovi Pidolo Tradizionale Adolpare di Cuneo Nascente, amici e fratelli Massimo Dispetto, rispetto Rispetto Tradizionale di Lucani, sono donna Noi nel frattempo stiamo cercando di organizzare qualsiasi festa carina da voi davanti Ovviamente c'è un sito Instagram, marchiamidi.com E partiremo un po' in giro, saremo da po' fino al 26 dicembre Quando concluderemo con i sballati d'interno Una bella festa d'interno Hanno suonato stasera, alle macchine, ai sintetizzatori, alla sua pastia All'estomato Basile Maniforte Alla mandolina, a Fred Subano Ai tuoi 65 anni, ai 13 anni insieme Il maestro Vito Giannone, battite le mani forte La voce dei mascherini tradizionale, pizzica pizzica, arra, latino Cosimo Giannotti, battite le mani forte Bravita Buon parlare di un baballo, facili le mani Rispetto, sempre Salma lina, salmi me la Lina Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.